Chi vince il Festival di Sanremo? Anna Lisa Perché? Perché è una bella canzone, perché poi è simpatica, insomma è un po' tutto là Come ti sta sembrando la conduzione di Amadeus? Ma normalmente come sempre con cinque festival che ha fatto, cinque conduzioni, direttore artistico, è normale, lui è il grande, basta Molti dicono Anna Lisa, io ho l'impressione di vedere un podio tutto al femminile Seconda metterei la, tra virulette metterei la Mannoia, perché è brava Unitamente alla Mannoia metterei anche l'Angelina, Mango, che penso che venga molto spinta sull'onda del successo Terzo posto, ma io penso Loredana Bertè Posso chiederle chi vince il Festival di Sanremo? Il volo Per me è il volo C'è un motivo particolare? No, perché sono pure bravi, non c'è niente da dire, quanto mio vince il volo Per me sono tutti bravi, sono tutti ragazzi che stanno cominciando e meritano qualcosa di buono Via